Presidente, amici tutti, colleghi ciclisti, buongiorno da Alex Zanardi. Ho appena ricevuto l'invito per partecipare al Giro d'Onore, la festa bellissima, la cui partecipazione è riservata ai grandi appassionati ciclismo, ma soprattutto a tutti i ragazzi, colleghi ciclisti che si sono distinti nel corso dell'anno grazie ai risultati e questo onore sarebbe stato tributato anche a me. Purtroppo non posso partecipare perché è proprio la bicicletta molto speciale che vedete alle mie spalle, è la macchina che guiderò poi il prossimo 23-24 novembre in Giappone, è una gara che si disputerà al Fuji, peraltro guarda caso anche ironicamente lo stesso circuito automobilistico che ospiterà sia i prossimi giochi olimpici del ciclismo che i giochi olimpici riservati a noi atleti con disabilità. Per cui insomma per farvela breve ho ricevuto la man con l'invito, ma so già che non potrò essere con voi il prossimo 19 di novembre, per cui vi saluto con tutto il cuore, mi sarebbe piaciuto davvero certamente andare all'incasso degli onori che credo di aver conquistato con merito in una stagione piena di soddisfazioni, ma anche a riservare il mio applauso più sincero a tutti voi che quest'anno vi siete distinti facendo suonare l'inno di due mili più volte e facendo ancora una volta grande il ciclismo italiano. Per cui ancora una volta grazie con tutto il cuore e in bocca al lupo a tutti e che sia nel 2020 una grandissima stagione ciclistica per tutti.